Ciao a tutti ragazzi, da Messi91 e dai 300 gradi che stanno lentamente friggendo le cose fuori di casa mia ci troviamo ancora su One Piece Pirate Warrior con la terza parte del gameplay allora, abbiamo salvato, come vi ricordate, là, in quel libricino là, da dove siamo usciti bellamente e ora andiamo alla ricerca del signor Buggy perché dobbiamo fargli leggermente i cosiddetti, come si suol dire monetina special e via coi voli verso l'infinito e oltre, tipo yahoo, eccoci qua, altro libro e via coi cazzotti come di consueto iniziamo a menare gente a random perché a noi piace così no, non c'era nessuno oddio, quello chi è? ciccio panzo uccidiamo ciccio panzo in fretta ah, wow, già fatto, beh è vero perché ho un livello leggermente alto, tipo 30 credo forse deve essere quello che mi sgrava un po' andiamo avanti a menare gente che fugge, quindi noi li superiamo tutti e fuggiamo più forte di loro via via e prepariamo già il palloncino, no, non ce l'ho fatta dai, sparate, stica, no, mi, fantastico no, ok, ne ho ucciso uno solo, gli altri li hanno pigliati i tizi a terra, quindi aspettiamo sti due con molto style e chigliamo tutti, perfetto e ci apriamo un'altra porta, che cazzo fa quello là? da solo? ah, ok, credo fosse solo, tipo voleva fare il kamikaze non c'è riuscito un esercito, ma lui fiero, voleva provarci da solo se l'avrebbe fatto a sicuro e finalmente raggiungiamo questo essere che è il cosiddetto buggy clown senza corpo, ragazzi, perché lui ha mangiato il frutto puzzle puzzle e quindi si può scomporre, diciamo beh, iniziamo subito a fare il culo a questo tizio fuggi, fuggi, tanto per cambiare ecco, fuggi, fuggi noi fuggiamo ah, cazzo, da dove è arrivato? OMG allora, aspetta prima rompiamo quei cazzo di cose dai, sparami, cazzo bello, non ho preso neanche uno perché quel filmato? ah, ok no, ma come ha fatto? oddio, ma, oddio si è girato così 360, tipo si è colpito pure da solo lui con i suoi stessi cannoni che personaggio fiego dove è finito? ok eh, fatemi distruggere sti cannoni che sono abbastanza rompipalle eh, tanto è infatti lo sapevo che le prendevano in faccia loro e non sarebbero mai arrivate da in fondo dai, su vieni giù, buggy, su fatti, fatti sotto, bastardo che belli sti cannoni cosa che è il kamadono sono troppo space con la testa li abbiamo rimandati dietro con la testa che bomber si, Yoga ci spara con l'uber cannone e uber pro ma tanto a noi non ce ne sbatte un puffo e gli lanciamo pure quello ora gli andiamo vicino e facciamo un bel gomo gomo ah, i piedi ragazzi aiutatemi a cercare i piedi dove sono là in fondo eccoli là cazzo gli ho lisciato tanto per cambiare nel vecchio gameplay ti facciamo messo mezz'ora a prendere sti dannati i piedi oh la ecco, scherchiamo il pollicione arrampichiamoci sui pezzettini vari di nostro povero amico buggy e miniamola a sangue chi è? pistoli in faccia calcio nei maroni no, nei maroni sarebbe stato meglio fidati la grazie enami sempre utile arrivi sempre nei momenti più proprio utili al massimo piccolo buggy lo lanciamo sulla luna ora chi è? 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 credo che prendere S sia la roba più semplice al momento perché sono a livello uber alto ecco, queste sono le monete di cui vi parlavo prima ragazzi che praticamente danno qualche piccolo vantaggio tipo, questa aumenta la difesa di 1 ma io ho già quella che aumenta di 3 quindi tengo quella che avevo già vedete, queste potenze hanno varie tecniche difesa, energia no, teniamola difesa comunque niente sono varie monete e sono collezionabili diciamo e ce n'è una uno o due o non lo so ce ne sono alcune che tipo vanno prese giocando in multiplayer io ancora non l'ho prese perché cioè non ci ho mai giocato in multiplayer poi semmai qualche partita ve la faccio vedere nel diario secondario quando abbiamo finito la storia salviamo salviamo perfetto ok, e buttiamoci a capofitto nel prossimo episodio vai che credo sia quello dei degli uomini pesci no, Don Crick quindi andiamo a prendere il nostro amico Sanjito ecco qua Baratio dove lavorava il nostro amico Sanji questo è il cuoco che ha insegnato a Sanji a lavorare Zef gamba di legno, ho letto non lo so, Zef sicuro, il resto non lo so credo di aver letto gamba di legno sì, ok, quello è Don Crick che è un lurido pezzo di pupù per dirlo in modo innocente, diciamo così che questo arriva tutto mezzo morto e affamato chiede del cibo Sanji gli dà da mangiare lui si ingozza e poi vuole conquistare questa barca diciamo, questa nave noi dobbiamo aiutare Sanji a, diciamo, a difenderla balun là strano, è atterrato senza rompere niente ragazzi senza rompere nulla strano di solito sfonda mezzo mondo questo tizio ok, subito ha scazzatato il tente a random vai, vai, vai gattolinga coi piedi col piedo questo che cazzo stava facendo tipo ballava vai, andiamo avanti a scassuzzare perché la missione è sconfiggere i pilati i pilati che sono giapponesi di click di click perché ovviamente è giapponese pure lui là oh ma quanti cazzo sono sti tizi siete finiti no, ancora ne arrivano cioè, piovono dal cielo oltre che piovono polpette piovono pirati bastardi ecco mo sono seduti vai, lanciamoci verso l'infinito e oltre come al solito wow questo non me l'aspettavo poco non ho messo quel quadrato ecco songe che però non è ancora equipaggiabile perché credo non faccia ancora parte della ciù ok, sono apparsi dal nulla dei pirati oddio cazzo fa questo qua dietro intanto pigliano e ballano questi perché loro possono aspetta, ammazziamo l'ultimo pirata ah, ci ha pensato songe vai di nuovo noi ci spostiamo così tra la gente perché a noi piace così e ovviamente spacchiamo tutto quello che ce lo impedisce ecco va Zoro equipaggiamolo subito dove sei? vieni 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 capitan 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 ovviamente quando facciamo quell'attacco cioè ovviamente no non possiamo muoverci per la mappa cioè non possiamo prendere Zoro fare dei passi e poi attaccare qualcun altro quindi è meglio usarlo quando abbiamo davanti un bel gruppo di gente oppure dietro come in questo caso ok sono rimasti là in fondo sti bastardi però sono più avuti perfetto perché se no andiamo a sprecare l'attacco tutto qua quindi se mi vedete attaccare con Zoro a raffica come prima e non prendere nessuno è solo perché una volta che abbiamo l'attacco non possiamo più muoverci cioè dobbiamo farlo per forza a partire da dove ci ci siamo fermi ecco ora ho visto che mi ha inquadrato della roba ma non so dove diavolo era eccola e andiamo avanti ora ci catapultiamo dall'altra parte ma letteralmente proprio di nuovo che quelli non chiedetemi che cosa sono sembrano tipo dei lampioni in mezzo al mare ma vabbè filmato ah ecco i cuochi che scendono all'attacco per difendere il ristorante oh mio dio che cazzo è successo questo invece resta attaccato ah no ok oh mio dio hanno affettato la nave di Krik così proprio come se fosse sushi ah ecco eh c'era l'inghippo ragazzi c'era l'inghippo sentite la musica l'atmosfera ecco questo è l'uomo più bullo che esista nella flotta dei sette ed ecco Zoro che parte all'attacco subito a sfidarlo vabbè un po' ridiato non scherzo sperava di iniziare ok ragazzi messo in 91 fa una carognata e vi saluta qui e vi lascia un po' confiati in sospeso anche se tutti sapete come finisce questo scontro e ci vediamo la prossima puntata con la terza parte di One Piece eh no la quarta parte di One Piece per oggi è tutto lasciatemi un commento sotto se vi va di darmi qualche consiglio o di dirmi qualcosa iscrivetevi al canale lasciatemi un pollicino e ci si becca al prossimo gameplay ciao a tutti ragazzi grazie a tutti grazie a tutti